Ciao amici di Gonzo Tennis, bentornati. Oggi, come vedete, siamo orfani. Gonzo Tennis è orfano del mio partner, Federico Ferrero, che non ha risposto alla convocazione anche lui. Però abbiamo un ospite illustre che è Riccardo Bisti. Ciao, grazie per essere qui. Ciao Federico, grazie per l'invito. Accidenti, manca Ferrero, un problema. Una volta che ci sono io, manca lui. È incredibile, è la prima che salta poi. Porca miseria, mi verrebbe da dire che porto sfiga. No, no, ha avuto un acciacco fisico. Speriamo si rimetta presto. Riccardo Bisti, allora, chi segue un po' il tennis, insomma, è impossibile. Non si è imbattuto in un articolo di Riccardo in questi anni. Giornalista scrive per Tennis Magazine e telecronista per Eurosport. Nonché, aggiungo io, forse la potenza d'archivio più grande del web per quanto riguarda il tennis. Sei una sorta di cassazione. Bella, bella, mi piace questa. Mi piace citare una cosa che ha detto proprio Federico, quindi mi fa piacere riportarla. Il Marco Travaglio del tennis. Amo tantissimo questa definizione, quindi usarla anche a casa di Federico è ottimo. Tra l'altro, meno male, c'è il lato positivo della tua sola presenza che non ho l'imbarazzo di dire. Cioè, come li devo chiamare? Federico 1, Federico 2, FM, FM. Una gag che accade sempre, stiamo in difficoltà. Ah, dici che potremmo risolvere il problema tagliando Ferrero. Tagliando uno dei due, in questo caso Ferrero. No, sto scherzando, ovviamente. Però diciamo, in questo caso posso dire solo Fede e va bene così, giusto? Sì, sì, a voglia. Allora, sono in corso il US Open, però ovviamente l'attenzione, soprattutto in Italia, è concentrata sulla Coppa Davis e su quanto è successo alla vigilia della Coppa Davis. Diciamo che Volandri non si aspettava una vigilia così travagliata, sicuramente. Perché? Andiamo con ordine, poi ti faccio parlare. Sinner ha risposto no alla convocazione e sostanzialmente Volandri ha deciso di chiamare Arnaldi per sostituire Sinner e va bene, ma ha deciso di convocare Bavassori come slot di doppio, lasciando a casa Fabio Fognini. E Fognini non l'ha presa benissimo. Allora, ti faccio scegliere l'argomento da dove partire. Ma andiamo in ordine cronologico, dai, partiamo da Sinner, proprio per rispettare l'ordine degli accadimenti che tra l'altro si sono radunati in poco più di 24 ore. Sì, allora, Sinner, io ho letto il tuo pezzo di ieri, mi sembra, su Sinner. Insomma, è un pezzo in cui tu ti facevi delle domande e consideravi strano, molto strano, quanto accaduto. Effettivamente lui, dopo la sconfitta con Zverev a New York, aveva detto a caldo, comunque dopo il match, aveva detto avrò più tempo per preparare la Davis e Bologna. E poi alla fine così non è stato. Quindi, quanto ti ha sorpreso questa decisione? Ma, allora, mi ha sorpreso non tantissimo in relazione a quanto accaduto nelle ultime 24-48 ore, perché ormai era chiarissimo che non sarebbe andato a Bologna. Mi ha sorpreso perché comunque il progetto Davis di Volandri, anche parlando direttamente con lo stesso capitano, era un progetto di unificazione, cioè cercare di portare sempre la miglior formazione possibile in qualsiasi partita. Fino adesso non gli è praticamente mai successo, gli è successo soltanto l'anno scorso, proprio nel girone di Bologna. Volandri è presentissimo a tutti i tornei, è molto giovane, perché insomma si è ritirato da pochi anni, e quindi conosce un rapporto diretto con tutti i giocatori, cosa che chiaramente per molti via anagrafici Corrado Barazzutti non aveva. E quindi probabilmente pensava, in virtù di questo rapporto privilegiato, proprio dal punto di vista anagrafico, con i giocatori, di riuscire a creare un clima in cui la Davis diventava magari un punto d'arrivo per tutti i giocatori, compresi i migliori, e non soltanto magari un fastidio, magari un obbligo, come invece purtroppo la storia ultrasecolare di questa competizione ci ha raccontato. Il problema, il problema gioiosissimo, è che l'Italia ha avuto due top ten negli ultimi anni, Sinner e Berrettini, chiaramente nel momento in cui sei top ten, certe dinamiche iniziano a venire meno, cioè la Coppa Davis talvolta può essere vista come un fastidio, poi se vorrai chiuseremo un attimo anche sulle norme e sulla rivoluzione regolamentare che c'è stata cinque anni fa. E quindi, onestamente, io pensavo che Volandri avesse lavorato molto dietro le quinte, sicuramente l'ha fatto per cercare di avere sempre la formazione migliore. Questa formazione migliore, a volte per rinunce, a volte per infortuni, non è quasi mai riuscito ad averla. Chiaramente questo rifiuto di Sinner è forse il più fragoroso perché riguarda il nostro miglior giocatore e ha un valore chiaramente molto più simbolico che effettivo per quanto poi accadrà Bologna la prossima settimana perché, insomma, l'ho scritto anche molto chiaramente, affronteremo formazioni contro le quali dovremmo vincere abbastanza tranquillamente il girone. Però probabilmente si è creata una mini spaccatura, anche perché, e poi chiudo questa parte di intervento, ho letto con attenzione le dichiarazioni di Volandri che ha elogiato molto Berrettini, dicendo chiaramente l'infortunio di Berrettini è oggettivo, starà fermo un mese e mezzo almeno, dicendo Berrettini voleva esserci, aveva fissato la Davis come priorità, mentre per quanto riguarda Sinner ha detto va bene, rispettiamo la sua decisione, gli auguro una pronta guarigione. Io mi domando, guarigione da cosa? Eh esatto. Non è infortunato. Perché lui, cioè almeno per quanto sappiamo noi, no, lui ha avuto dei crampi, però non si tratta di un infortunio, cioè non è assolutamente paragonabile con quanto ha capito a Berrettini invece. No, ma assolutamente, anche perché, parliamoci chiaro, se avesse vinto la partita di due giorni fa contro Zwerve, è chiaro che sarebbe sceso in campo contro Alcaraz. E poi, tra l'altro, io volevo sottolineare un aspetto, magari per chi non ha letto, immagino siano moltissimi, non hanno letto le mie considerazioni, c'è il precedente dell'anno scorso. Secondo me c'è un tema nel mondo del tennis italiano che è molto trascurato, e so che tu, ma anche Federico Ferrero, siete molto sensibili a questo aspetto, ovvero la memoria. Manca tanto la memoria nel mondo del tennis italiano, abbiamo veramente, tendiamo a dimenticare molto molto in fretta quello che accade. Qua non c'è neanche bisogno di chissà quale esercizio mnemonico, perché comunque andiamo a vedere l'anno scorso. L'anno scorso Berrettini, chiedo scusa, Sinner, perde nei quarti di finale contro Alcaraz, la notte tra il mercoledì e giovedì, direi, italiano. Poi si reca tranquillamente a Bologna, salta la prima partita contro la Croazia, poi gioca regolarmente contro la Svezia e contro l'Argentina. In ordine, prima contro l'Argentina, poi contro la Svezia. Quindi condizioni molto simili, perché lui aveva perso una partita dura, al turno dopo rispetto a quest'anno, ma tu sottolineavi giustamente che era una stagione in cui servivano a Sinner dei punti, quindi era una situazione molto più scomoda rispetto a quella attuale, dove sostanzialmente è alle finals. Certo. Deve succedere un caraclisma per non far andare alle finals. E invece lo scorso anno no. Quindi tu sottolineavi che appunto in una situazione peggiore lui è andato a giocare, in una situazione migliore come quella di quest'anno, ha detto no. Esatto, è proprio così, hai detto benissimo. Tra l'altro hai sottolineato che l'anno scorso aveva perso nei quarti, quindi aveva avuto due giorni in meno di tempo per tornare in Europa. Tra l'altro i beni informati dicono che la Federtennis gli aveva messo a disposizione ovviamente lo staff medico per curarlo come si deve nella sua eventuale presenza a Bologna e la possibilità di saltare la sfida contro il Canada di mercoledì. Quindi anche volendo un trattamento di favore rispetto agli altri componenti della squadra e quindi se lui avesse accettato sarebbero passati dieci giorni e mezzo tra la fine della partita contro Zverev e la partita contro Nikolas Harri, probabilmente sarebbe stato lui il suo avversario perché è il numero uno cileno, venerdì 15 alle ore 15, dopo che lui aveva perso ora italiana alle sette del mattino di martedì 5. Quindi dieci giorni e mezzo per dei crampi mi sembrano più che sufficienti, quando invece l'anno scorso dopo otto giorni e mezzo ha giocato la sua partita. E poi sì, hai detto bene anche il discorso del mettere in ghiaccio la qualificazione alle TP Finals, questa formula di punteggio è in vigore dal 2009 e storicamente sono sufficienti 3.000, 3.200, massimo 3.500 punti per qualificarsi. In questo momento Sinner di punti in a 4.365, il termine che hai usato tu è corretto, cataclisma, cioè dovrebbe succedere l'imponderabile affinché non si qualifichi. Una roba tipo 2017 quando Sock vince a Parigi-Bersee e si qualifica in extremis. Ma comunque Sinner è quarto nella race, dovrebbe veramente verificarsi una combinazione di punteggi non impossibile, ma altamente improbabile e che comunque fino adesso non si è mai verificato. Senti, allora, senza fare gli ipocriti, ovviamente il trattamento che riceve Sinner dalla federazione è differente in virtù semplicemente del suo status, della sua forza. Cioè, non mi aspettavo ovviamente un volandri indignato, almeno pubblicamente, per questo rifiuto, perché possiamo dire che Sinner serve all'Italia più di quanto l'Italia serve a Sinner. Non ci sono dubbi su questo, ma è sempre stato così. Devo dire però a, diciamo, parziale difesa dell'entourage federale, che effettivamente le cose sono cambiate da questo punto di vista anche negli ultimi anni del capitanato Barazzuti. Perché, sempre riallacciandomi a quello che dicevo prima, la memoria, ci sono stati tanti casi di giocatori che avevano detto no per ragioni più o meno valide alle convocazioni e su di loro si era scatenata la furia della federazione, adesso questa cosa non esiste più. Tra l'altro, io come sai, conosco piuttosto bene i regolamenti, diciamo così, esiste ancora nello statuto della Federtennis una regola secondo cui chi dice no a una convocazione nazionale, qualunque sia la nazionale, è soggetto a una squalifica fino a 12 mesi. Quindi, teoricamente, molto teoricamente, Sinner sarebbe passabile di squalifica. Chiaramente questo non accadrà. Un anno di squalifica che è quello che ha chiesto, non esplicitamente per Sinner, ma insomma, che ha chiesto Pietrangeli. Lui ha detto che chi rifiuta la Davis, per giocare e giocare altri tornei, meriterebbe un anno di squalifica. Allora, ovviamente le circostanze, lui ha detto che non si riferiva a Sinner, però le circostanze, insomma, fanno intendere quello. Oppure, magari lì che non lo so, magari fanno intendere quanto è successo alle Olimpiadi. In quel caso non era Davis, però Sinner non giocò a Tokyo e poi giocò invece a Washington dopo qualche settimana vincendo per altri tornei. Guarda, io andrei un po' più indietro. Sicuramente l'esempio olimpico che hai fatto è molto pertinente, però secondo me Pietrangeli, io non l'avrei menzionato perché non mi sembrava il caso. L'hai fatto tu a questo punto, mi addentro anche in questa vicenda. Pietrangeli secondo me ha rilasciato queste dichiarazioni anche per essere fedele a se stesso, perché torniamo al caso, forse mediaticamente più grande. Tu eri molto giovane, ma sicuramente te lo ricordi, avevi 17 anni. Bolelli. Bolelli, nel 2008 Bolelli rinuncia, rifiuta la convocazione per una sfida contro la Lettonia, una sfida della vecchia Serie B, Gruppo 1, zona euro-africana, perché all'epoca voleva portare avanti con il suo coach Claudio Pistolesi un progetto tecnico. Me lo disse chiaramente Pistolesi, noi volevamo cercare di permettere a Simone di portare a casa dieci punti più a rete per ogni partita che gioca. Allora si giocava a Montecatini contro la Lettonia, che aveva soltanto Gulbis, il secondo singolarista era un certo Andis Juska, che era tipo 350-400 al mondo, e avevamo una squadra che chiaramente non aveva tutta questa necessità di Bolelli. Tra l'altro l'anno prima proprio l'attuale capitano Volandri aveva avuto una sorta di esenzione per un match giocato ad Alghero contro il Lussemburgo. Detto questo, su Bolelli si scatenò un polverone mediatico nel quale intervenne proprio Nicola Pietrangeli dicendo che rinunciare alla nazionale significava sputare sulla bandiera. Quindi è evidente che il pensiero di Pietrangeli è questo, ma io lo posso anche capire, io non voglio giudicare male Nicola Pietrangeli. Nicola Pietrangeli è quella persona che nel 1960 stava per firmare con il circuito di Jack Kramer per diventare professionista. Poi quell'anno lì il caso volle che c'erano le Olimpiadi estive a Roma racconta Nicola che nel mentre ascoltava gli inni nazionali e la cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici gli è venuto il magone, si è messo a piangere nel vedere la bandiera che veniva issata e allora ha chiamato Kramer e ha detto no, non firmo più, rimango dilettante. Quindi diciamo abbastanza, come dire, in linea con quello che è il personaggio Pietrangeli. Il problema è che da allora sono passati 63 anni e sono cambiate tante cose. Soprattutto la Davis magari non è più quello che era prima. Io so che tu sei molto affezionato a questa competizione, vero Ricky? Sì, molto. Molto perché ci sono cresciuto e mi ha trasmesso forse le prime vere grandissime emozioni quando ero un ragazzino e mi avvicinavo come appassionato allo gioco del tennis. Quindi è un rapporto affettivo. Tra l'altro anche le prime esperienze professionali di altissimo livello, per altissimo livello intendo finali di Coppa Davis, proprio le ho vissute con questa competizione. Ma secondo te, me lo chiedeva anzi, ieri un mio amico appassionato di tennis, non espertissimo, ma secondo te un tifoso italiano di tennis, quindi non un tifoso di Sinner o Berrettini o Mosetti, preferirebbe una vittoria italiana in Davis o Sinner che vince Wimbledon? Allora, io penso che chi ha una conoscenza del tennis in una scala da 0 a 10, superiore al 5, superiore al 6, preferisce lo slam. L'uomo della strada preferisce la vittoria in Coppa Davis, perché in Italia abbiamo comunque un fortissimo retaggio dello sport a squadre, ovviamente del calcio in primis, e di conseguenza la Coppa Davis rimane comunque qualcosa di estremamente simbolico per l'uomo della strada, come dicevo, per l'appassionato semplice. Non a caso, a distanza di 47 anni, ci si ricorda ancora fatti, circostanze di Santiago 76, e tu sai benissimo Federico che successo ha avuto la serie e la squadra. Probabilmente se fosse stata una serie sui due slam vinti da Pietrangeli a Parigi nel 59 e nel 60, o sulla trionfo di Panata nel 76, o addirittura in un paese macista come l'Italia, le vittorie di Schiavone e Pennetta non avrebbero avuto questo successo. Senza ombra di dubbio. Senti, andiamo dall'altra parte della barricata, perché se da una parte c'è un giovane che ha detto no alla nazionale, dall'altra c'è un veterano che avrebbe molto voluto dire sì, e invece non è stato convocato. Parliamo di Fabio Fognini che ieri sera su Instagram ha pubblicato un post, una gallery, con una serie di scatti di tutta la sua carriera, grosso modo in azzurro, e è andato giù parecchio pesante, soprattutto con Filippo Volandri, che come dicevi tu era un suo collega. Sì. Sono stati degli anni in cui entrambi erano tenisti professionisti. E allora, io parto dicendo che francamente leggendo le parole di Fogna non posso non essere d'accordo con lui questa volta, perché lui davvero è sincero, secondo me, quando dice che ha fatto dei sacrifici per la Davis, che è andata a giocare ovunque, in epoche in cui non c'era tutto questo ben di Dio, come adesso. La classica carretta tirata, secondo me, è un esempio calzante. E soprattutto nei modi, al di là della scelta, che poi ci arriviamo, insomma, io non sono una persona che ritiene che le convocazioni debbano essere fatte con la memoria o per debiti di riconoscenza. Accade spesso anche nel calcio, no? Abbiamo visto la Nazionale di Mancina, ad esempio, nel post europeo, ha fatto una serie di convocazioni per debiti di riconoscenza, se secondo me è sbagliato. Però il tennis è diverso dal calcio, i risultati sono molto più preventivabili. E, insomma, portare Fognini in doppio, in un girone abbastanza modesto, come ricordavi tu prima, dove quasi sicuramente vinciamo, non mi è piaciuto. Per portare poi Vavassori, che, insomma, con tutto il rispetto, non è John Macero, ecco. E Fognini non è uno scappato di casa, in doppio, anche in questo momento. Cosa ne pensi tu? Allora, guarda, io intanto ti ringrazio, perché comunque mi dai sostanzialmente la possibilità di mettere a parole quello che ho scritto poche ore fa. Quindi mi dai la possibilità di esprimere il mio parere, e spero che possa essere interessante per te e per chi soprattutto ha la bontà e la pazienza di ascoltarci. Io sono d'accordo a metà. Sono d'accordo a metà e ovviamente provo ad argomentare, perché questa è la classica situazione in cui le opinioni sono sacre e quindi indiscutibili. Cioè, tu giustamente rimarrai della tua opinione, io della mia, ognuno tra quelli che ci ascolteranno avrà la sua. Secondo me la questione è doppia. C'è una questione tecnica e una questione etico-morale, e se vogliamo anche storica, anche se sono d'accordo con quello che hai detto in merito alla non correttezza delle convocazioni di riconoscenza. Parto dalla questione tecnica. Secondo me, convocare Vavassori e non Fognini non è uno scandalo. Questa è la mia opinione. Non è uno scandalo. Non sto dicendo che è giusto convocare Vavassori al posto di Fognini. Perché? Perché questo? Perché Vavassori è il nostro numero uno nella classifica tipi di doppi. Perché Vavassori da tre mesi fa coppia fissa con Bolelli e a me piacerebbe molto sapere perché gioca Vavassori con Bolelli da tre mesi. Mi piacerebbe che qualcuno domandasse, nel caso lo domanderò io, a Volandri, se c'è il suo zampino, no? Nella creazione del doppio Bolelli-Vavassori. perché se andate a vedere la programmazione dei giocatori, quest'anno Bolelli e Fognini hanno giocato fissi fino a Roland Garros. Hanno anche vinto un torneo, hanno vinto a Buenos Aires, sono andati nei quarti India Wells. Poi dopo Roland Garros, all'improvviso, Bolelli inizia a giocare con Vavassori. Fanno due finali ATP, perché comunque sono due ottimi doppisti, e hanno giocato 17 partite insieme. Da allora Fognini non ha praticamente più giocato in doppio. Ha giocato soltanto due partite in doppio in altre tanti challenger. Una a San Marino addirittura con German Geick, che è il suo allenatore. Capite che si può dire che abbia tendenzialmente sospeso l'attività in doppio. Ha giocato maluccio allo US Open, anche se poi la sua sconfitta è stata in parte rivalutata dai risultati di Jakub Menzi, che l'ha battuto al primo turno. Si è ritirato per un problema muscolare a Como. Adesso sta giocando bene a Genova. Io ho dato un'occhiata al match contro Oradini, che non è un avversario semplice, è un avversario più complicato di quanto dica la classifica, gli ha dato 6-0-6-3. Stasera ho un test molto interessante contro Piros, ma non voglio perdere il focus. Però, ecco, onestamente gli accadimenti degli ultimi tre mesi mi fanno pensare che non sia scandaloso convocare Vavasori. Anche perché Vavasori in doppio ci sta veramente stare. Esiste però un altro tema completamente diverso che è quello etico. Cosa succede? Da regolamento i capitani devono diramare le convocazioni con quattro settimane d'anticipo. Quindi il 14 agosto Barazzone, buonanotte, Volandri convoca i nostri cinque giocatori e c'è Fognini. Nel momento in cui io leggo queste convocazioni penso che nella testa di Volandri sia abbastanza chiaro che abbiamo due singolaristi titolari che sono sulla carta Sinner e Berrettini, un singolarista di riserva che è Musetti e due specialisti del doppio. E quindi io mi aspetto anche in virtù di quella che è stata la squadra dell'anno scorso il doppio Bolelli-Fognini. Sicuramente Fognini pensa lo stesso che penso io. Sicuramente Fognini pensa di focalizzare la sua preparazione per arrivare a Bologna in buone condizioni. E io sono molto d'accordo sul punto del posto di Fognini in cui dice io sono andato a Genova in un contesto che conosco bene è un torneo che ho vinto ho visto anche delle storie su Instagram in cui non si allena Valetta Gambiaso ma si allena al Park Tennis Club che è lì a due passi che è il circo per il quale lui credo sia ancora tesserato tu che sei preparatissimo su Fognini dovresti saperlo ma credo anch'io perché avevo letto un'intervista ad Alessandro Ceppellini che mi sembra lo ricordasse e quindi ci sta che Fognini metta benzina nel serbatoio a Genova e poi ha talmente tanta esperienza che passare dalla terra outdoor al cemento indoor per giocare le partite contro il doppio canadese il doppio cileno che è scarso perché il doppio cileno non ha specialisti il doppio svedese ha uno specialista però anche lì non stiamo parlando dei gemelli Brian quindi secondo me Fognini aveva le idee molto chiare su quello che sarebbe stato magari chissà forse l'ultimo assalto della sua carriera alla Coppa d'Enes Fognini dice lunedì 4 settembre mi pare era il 4 lunedì sì ricevo una telefonata da Volandri e Volandri sostanzialmente mi dice che non faccio più parte del progetto dandomi delle motivazioni che io non ritengo corrette e con delle modalità che non ho ritenuto giuste a questo punto io Fognini lo capisco perfettamente però più che la questione tecnica io ne faccio una questione di cortocircuito comunicativo perché se Volandri ha maturato queste idee probabilmente doveva avere doveva essere un po' più fluida la comunicazione con Fognini poi sul valore di Fognini il valore di Vavassori possiamo discutere all'infinito ma credo che non sia questo il focus del quale tu volevi parlare no ma io guarda do per buono che un doppio Bolelli-Vavassori possa essere migliore oggi di un doppio Fognini-Bolelli però secondo me c'è anche il buonsenso e il buonsenso secondo me doveva dire a Volandri di portare Fognini guarda io posso essere d'accordo con te dal 14 agosto in poi se tu Volandri decidi a giugno ripeto io vorrei saperne di più sulla genesi della coppia nel circuito Bolelli-Vavassori se tu Volandri hai deciso di investire su questa coppia mi sta bene perché tu sei il commissario tecnico giustamente ti assumi le responsabilità delle tue scelte però devi avvisare Fognini non puoi lasciare Fognini all'oscuro convocarlo nelle pre-convocazioni del 14 agosto e poi comunicargli il 4 settembre che non fa più parte del progetto anche perché e qua effettivamente permettimi di come dire di fare il romanticone stai parlando con Fognini no con un esordiente stai parlando con uno che ha giocato 55 partite in Copa Davis stai parlando con uno che di queste 55 partite ne ha giocate 41 al meglio dei 5 set uno che ci ha salvato a Irkutsk quando siamo andati a giocare uno spareggio per non retrocedere in Siberia perché la Russia ci ha ospitato in Siberia uno che ha giocato 14 set in tre giorni contro il Giappone e ha fatto tre punti contro ok mancava Nishikori ma c'era Taro Daniel che c'era su Gita che era nel miglior momento della sua carriera quindi io credo che Fognini meritasse rispetto in termini di comunicazione dal punto di vista tecnico ripeto non trovo scandalosa questa decisione e poi insomma Fognini sappiamo che è molto divisivo spesso si è comportato in modo non esattamente all'altezza a livello comportamentale intendo però francamente in Davis il suo lo vedo un amore l'ho sempre visto come un amore sincero e incondizionato cioè si vedeva proprio che lui godeva nel giocare la Davis e lo faceva con grande spirito molto più di altri tornei in uno sport che sempre più sta diventando molto individuale sicuramente è uno sport individuale ovviamente ma soprattutto i top player sono orientati verso snobbare la Davis le competizioni a squadre e in questo contesto storico Fognini che va un po' in controtendenza è una roba che mi piaceva a me sì sì sono perfettamente d'accordo è chiaro che tra l'altro con la riforma Cosmos il senso di appartenenza alla maglia che vogliamo considerarlo anche un po' retorico io riconosco che c'è tanta retorica anche in questo però non è necessariamente negativo perché deve essere negativo a tutti i costi fare retorica soprattutto se ci credi sinceramente e Fognini non è l'unico tra l'altro vorrei guarda vorrei approfittare di questa di questa opportunità che tu e Federico mi avete dato per anticipare una possibile critica che potrebbe essere fatta a Fognini qualcuno potrebbe dire eh ma anche Fognini ha rinunciato a una convocazione perché molti non lo ricordano 2010 l'Italia deve giocare in Olanda a Zöttermer una partita di serie B calendarizzata pensa te durante la settimana degli internazionali d'Italia si giocò credo nel weekend delle fasi finali degli internazionali d'Italia e Fognini aveva qualche problema fisico e andò a giocare subito dopo la Davis quindi la Davis finiva la domenica e il lunedì sto andando a memoria potrei sbagliare ma più o meno è andata così andò a giocare il torneo ATP a Belgrado che tra l'altro fu trasmesso in televisione dalla defunta Dalia TV te la ricordi? come no? e quindi Fognini ricevette delle critiche per questo perché ha detto ma come non è andato a giocare a Zöttermer ti vorrei ricordare che era un periodo di fortissima tensione sulle mancate risposte alle convocazioni erano tempi molto diversi rispetto a sì il 2010 era successo scusami se ti interrompo il 2010 anzi ti sfrutto perché sicuramente te lo ricordi era successo anche era l'anno di seppi no? allora seppi era successo sì proprio quell'anno lì sì nel febbraio del 2010 nel febbraio del 2010 seppi dichiara che non avrebbe giocato per tutto il 2010 Binaghi il presidente della Federtennis risponde tramite la stampa dicendo che se Barazzutti lo avesse convocato sarebbe stato tenuto a rispondere alla convocazione c'era la partita Italia-Bielorussia che si giocava a Castellaneta Marina e Barazzutti convocò seppi e seppi per evitare ritorsioni nei confronti suoi ma nei confronti del suo allenatore nei confronti delle figlie del suo allenatore che in quel momento una delle due in particolare era una giovane promessa andò a Castellaneta Marina a fare quella che si può dire a distanza di 13 anni una pantomima nel senso che andò a Castellaneta Marina fece una chiacchierata con Barazzutti e Barazzutti rilasciò pubblicamente la dichiarazione e ho ritenuto seppi non idoneo psicologicamente a giocare e non lo ha lo ha rispedito a casa poi seppi non fu convocato per i successivi match del 2010 e del 2011 poi tornò nel 2012 e in quel caso alcuni suoi compagni storsero un po' il naso tornando a Fognini è brevissimo è praticamente finito il racconto la verità è che disse tranquillamente allo staff della nazionale guardate se mi chiamate io vengo non ci sono problemi semplicemente non sono al massimo non ricordo che tipologia di problema fisico avesse perché proprio tutto non posso ricordare però lui comunque aveva dato e vorrei sottolineare con forza come diceva il vecchio premier Giuseppe Conte sottolineare con forza che Fognini aveva dato la sua disponibilità ad andare a Zettermer poi evidentemente non era al 100% allo stesso tempo essendo un professionista la settimana dopo è andato a giocare a Belgrado questo l'ho voluto dire perché magari non succederà però qualcuno potrebbe ritirare fuori questa storia di un'ipotetica rinuncia di Fognini alla nazionale no non era stato un rifiuto e qualora venisse fuori noi siamo già pronti esatto abbiamo già la protezione senti secondo te tornando a Sinner invece secondo te andrà a giocare in Asia ma guarda lui a Pechino che ha un entry list impressionante ovviamente l'avrei vista girava su Twitter e ci sono sostanzialmente tutti i top 10 tranne Djokovic e poi ovviamente Shanghai sì ma io penso di sì non vedo non vedo particolari controindicazioni a questo tra l'altro apro una parentesi che non c'entra nulla hai ragionissima hai fatto bene a sottolineare il torneo di Pechino perché il torneo di Pechino sono stati costretti a limitarlo perché ha un Montepremi che si avvicinava pericolosamente a quello di Monte Carlo che è il più è il più povero tra virgolette dei Master 1000 Pechino ha una forza economica straordinaria quindi potrebbe tranquillamente offrire un Montepremi superiore a Monte Carlo chiaramente essendo ATP 500 non possono dirgli eh ci dai gli stessi soldi che dai un Master 1000 però il campo di partecipazione è così proprio per questo motivo tra l'altro a proposito di geopolitica per questa ragione io credo è stato anche spostato il torneo di Tokyo perché il torneo di Tokyo era in contemporanea a Pechino ma pattiva tantissimo dal punto di vista economico Pechino è probabilmente il torneo più ricco a livello WTA WTA 1000 è uno degli ex mandatori a Montepremi mostruoso ora non so esattamente quanto sarà ma tra le donne è un Montepremi pazzesco sì l'entry list la prima stesura diciamo ho visto che Struff 22 era fuori sì sì ma succedono queste cose succedono sono rare ma non sono così incredibilmente assurde tra le donne per esempio quest'anno al torneo di Adelaide 2 se non sbaglio la numero 23 del mondo dovete giocare le qualificazioni comunque sì io credo onestamente credo che Sinner farà assolutamente la trasferta in Asia che comunque insomma si tratta di torne importanti e remunerativi non hanno tradizione cercheranno di costruirsela temo che ci vorrà parecchio tempo per quello allora Riccardo parliamo brevemente di tennis giocato ho l'opportunità di averti qua quindi ti chiedo anche un pronostico su ciò che resta del torneo il torneo femminile sono in finale Goof e Sabalenka nel torneo maschile invece si giocheranno oggi le semifinali tra Shelton e Djokovic da una parte e Alkaraz Medvedev dall'altra allora fammi un pronostico sul femminile poi parliamo brevemente del maschile allora io mi fido molto delle quote dei bookmakers non le ho ancora viste quindi non so esattamente i bookmakers per quanto riguarda la finale femminile da che parte si sono schierati vediamo insieme si sono schierati dalla parte è molto equilibrio è leggermente favorita Sabalenka ok sì non sono particolarmente sorpreso allora guarda io provo a buttarmi e vado sulla leggermente sfavorita sulla Goof i motivi sono due perché stanotte ho visto le semifinali e ho visto una Sabalenka un po' miracolata nel senso che è stata sotto 6-0-4-2 la Kiss è andata a servire per il match sul 5-4 lì ha perso 8 punti di fila però insomma una giocatrice un po' più solida dal punto di vista mentale l'avrebbe portata a casa la Sabalenka è stata bravissima si è comportata veramente da campionessa ha saputo giocare nel modo giusto i punti importanti infatti ha dominato i due tiebreak non so se penso che tu l'abbia visto ha esultato nel super tiebreak sul 7-3 perché era talmente concentrata che si era dimenticata che era un tiebreak a 10 punti mentre la Goof ragazzi c'è Brad Gilbert e Brad Gilbert è una sentenza e Pereriba no? Pereriba sì tra l'altro Pereriba che si è preso una sontuosa rivincita io l'ho conosciuto diversi anni fa quando giocava ma poi ci avevo chiacchierato un paio di anni fa quando allenava Tiguen Jen che era questo grandissimo progetto c'era una progettualità straordinaria che però altro va avanti comunque è arrivata nei quarti è adesso allenata da Winfisette quindi è una destinata ad arrivare è finita piuttosto male Riba ha avuto la fortuna di trovare una giocatrice forse una delle pochissime più futuribili e più giovani della Jen però onestamente il salto di qualità è arrivato dopo che i genitori e i manager della Goff hanno contattato Pragilbert Pragilbert ha detto ok volentieri facciamo una chiacchierata hanno cominciato vittoria a Washington sconfitta nei quarti a Montreal 7-5 al terzo contro la Pegula che è la sua migliore amica stra vittoria a Cincinnati finale allo US Open ha faticato un pochino contro la Sigmund al primo turno una Sigmund che propone un tipo di tennis che poteva ricordare vagamente quello della Mukhova ebbene la Goff ha imparato dalla lezione ha vinto questa partita senza mai dare l'impressione di poterla perdere e soprattutto la cosa che mi ha impressionato che mi fa pensare che la mano di Gilbert sia davvero importante è che ha portato la Mukhova nel suo territorio tattico preferito abbiamo visto un sacco di scambi lunghi la Mukhova che raramente è riuscita a giocare il suo velenoso slice spesso è stata costretta come si diceva negli anni 80 a spallettare e credo che lo scambio simbolo sia stato il penultimo scambio di 40 colpi bellissimo chiuso con un vincente della Goff contro la Mukhova che davvero non aveva più tutti questi fattori messi insieme mi fanno pensare che la Goff possa farcia tra l'altro avanti 3 a 2 negli scontri diretti scusami sono stato un po' prolisso non ti preoccupare ciò che dici sostanzialmente ha trovato trova insomma un amico in Jacopo Lomonaco perché ospite di Gonzo Tennis lui dopo il primo turno alla voce pronostice aveva detto Goff vincitrice per le motivazioni grossomodo simili a quelle che hai detto tu non l'avevo sentito però mi conforta perché Jacopo è uno che con i pronostici è molto più ha molta più familiarità rispetto a me senti invece nel maschile ti chiedo se c'è un modo per non far godere agli spettatori della finale al Carazzo Giocovici sono meno beh le quote le ho viste ho visto che quella di Giocovici Shelton è incredibile cioè credo che bisogna andare a qualche Roland Garros di Nadal per trovare una quota così bassa in una semifinale 1-0-5 ho letto qualcosa del genere Shelton è un giocatore fantastico credo che sia uno credo che sia un americano sul quale finalmente si possa contare dopo tanti top 10 e poco di più ma comunque incapaci di arrivare a una finale slam dopo Roddick però da lì a pensare che possa battere Giocovici ce ne passa Giocovici tra l'altro ha tutte le armi tecnico-tattiche per metterlo in difficoltà a partire dai colpi di sbarramento poi insomma sarebbe una storia bellissima però non dimenticherei che questo ragazzo un anno e quattro mesi fa vinceva il campionato in CAA ed era senza classifica o quasi quindi sarei davvero molto molto sorpreso se vincesse quindi mi prendo Giocovici senza particolare originalità l'altra semifinale vede un Alcaraz favorito se non sbaglio intorno all'1,30 è una quota abbastanza severa nei confronti di comunque un giocatore che ha vinto questo torneo due anni fa è comunque il derby tra gli ultimi due vincitori dell'Open degli Stati Uniti però io credo che nella mente dei due giocatori così come in quella dei bookmakers ci siano i due precedenti di quest'anno perché a Wimbledon in semifinale ragazzi io non so se tu hai avuto la stessa sensazione mi ha dato proprio l'idea che non c'era modo per vincere per Medvedev io ritengo che il loro sia un incastro perfetto per Alcaraz e terrificante per Medvedev cioè Medvedev ha vinto la prima a Wimbledon però insomma beh Alcaraz era ancora un ragazzino certo doveva ancora e adesso invece proprio non c'è non vedo proprio chance cioè Alcaraz ha tutto per distruggere il gioco di Medvedev che viene distrutto da pochi ecco sì tra l'altro poi si gioca comunque sul cemento all'aperto certo si giocherà credo che sia la seconda semifinale correggimi la seconda quindi si giocherà probabilmente tutto il match sotto le luci quindi condizioni un po' diverse però comunque sul cemento a India Wells anche lì era stato un match quasi a senso unico quindi questo mi fa pensare che Alcaraz abbia tante armi dieci secondi per dire che Alcaraz a differenza di Rublyov che è incredibile che non abbia vinto un set nei quarti sendo stato davanti di un break in tutti e tre i set cioè Rublyov ha colpi di preparazione fantastici magari Alcaraz ce li ha simili forse un pochino meglio Alcaraz però Alcaraz li sa far fruttare Rublyov invece si trova nella terra di nessuno tornava indietro perdeva il punto nove volte su dieci altra cosa Alcaraz la smorzata che Rublyov non ha e Medvedev si muove molto bene per l'altezza che ha però Medvedev che rincorre la smorzata poi si trova in una zona di campo in cui non è a suo agio e forse Alcaraz passa bene togliamo il forse quando Medvedev non è a suo agio e la finale boh non lo so a me questa partita mette molto in difficoltà perché ho quasi sempre sbagliato il pronostico e soprattutto è una partita in cui mi rendo conto di di non sapere cosa pensare guarda io do do la parola a Zverev che ha detto delle cose interessantissime dopo la sconfitta contro Alcaraz ha detto che intanto Djokovic Alcaraz contro Djokovic ha giocato a Cincinnati quindi ha una memoria molto recente dice che giocano uno sport diverso rispetto agli altri in questo momento loro fanno uno sport e poi dietro c'è tutto il gruppone ci sono alcune cose che fa meglio Djokovic ovviamente non ha menzionato quali ci sono alcune cose che fa meglio Alcaraz quindi sì è una partita estremamente difficile da pronosticare io credo che se le semifinali vanno come ne devono cioè non ci sono ribaltoni strani credo che i bookmakers andranno un pochino dalla parte di Djokovic e non lo so però è davvero difficile perché nel momento in cui io penso a dirti vedo favorito uno però mi vengono in mente dei fattori favorevoli all'altro per esempio questa incredibile idiosincrasia di Djokovic a vincere lo US Open che è pazzesco se ci pensi abbia vinto lo stesso numero di Roland Garros e di US Open sì sì è molto strano così come Cincinnati era l'ultimo mille che gli mancava ti ricordi per tantissimi gli è mancato Cincinnati alla fine poi l'ha vinto tre volte quindi si è rifatto però sì bello io ho appena giocato un mucchio di finali credo nove se non sbaglio è arrivato tredici volte in semifinale quindi non si può dire che si trovi male a New York certo ci sono state un sacco di situazioni la pallata alla giudice di linea la mancata presenza l'anno scorso per il mancato vaccino un ritiro se non ricordo male contro Avrinka diversi anni fa per infortunio alcune partite la finale penso al finale del 2012 contro Murray insomma se c'è un torneo dove magari gli è girata male è questo mentre invece a Melbourne quando ha giocato gli è sempre girata tendenzialmente però ecco non farmi avventurare in un pronostico perché a parte che sono scarso in questo e poi davvero non saprei cosa dire veramente non riesco a immaginare sconfitto nell'uno e nell'altro cioè Jogwitch proprio di default non riesco a immaginare sconfitto in generale quando si gioca uno slam e Alcaraz è molto dura ti dico anche un'altra cosa Federico la finale di Wimbledon dico una banalità ma se Jogwitch non sbagliava con i due ravessi nel tiebreak del secondo la vinceva probabilmente in 3-7 la finale di Cincinnati la poteva vincere tranquillamente Alcaraz era avanti correggemi se sbaglio di un set e un break quindi cioè vedi una volta ha vinto uno poteva tranquillamente vincere l'altro ai punti a Cincinnati è successo l'esatto contrario sì e soprattutto io ho detto in puntate scorse che ho sempre sbagliato questo pronostico perché ero sicuro di una vittoria dal Carazza a Parigi e non nego che senza crampi mi sembrava molto meglio Alcarazza di Djokovic quel giorno ero ancora più sicuro invece di una vittoria di Djokovic a Londra e invece vabbè beh Alcarazza ha sorpreso veramente tutti sull'erba devo dire ha mostrato un'adattabilità che io non pensavo avesse già quest'anno perché io ricordavo la sconfitta dell'anno scorso con Sinner cioè fece una fatica tremenda a vincere un set sì si ha vinto un set per quasi per miracolo quella partita là sì mentre invece beh la semifinale di Parigi quella sì diciamo l'impressione che Djokovic avesse speso veramente tante troppe energie in quel secondo set e non so dove avrebbe dovuto raccattare quelle necessarie per vincere altri due rimane un grosso asterisco quella semifinale onestamente va bene Riccardo è stato molto piacevole per me ti ringrazio e spero che troverai a tornare tornerai a trovarci stavo incartando con Ferrero e beh direi con te è straordinario insomma ci conosciamo benissimo è super quanto è che ci conosciamo Federico secondo me siamo sulla decina d'anni forse qualcosina meno ultimamente forse qualcosa meno sì perché comunque gli anni passano in modo mamma mia troppo veloce non me ne parlare no comunque molto molto volentieri so che siete veramente un Gonzo Tennis è un progetto di eccellenza a me piace comunque avere a che fare con l'eccellenza quando è possibile quindi mi fa super piacere poter potervi dare una mano se ritenete che questo sia sia plausibile grazie mille alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti